Continua il sostegno da parte del Governo regionale nei confronti delle imprese colpite dal caro energia. La conferma è arrivata direttamente dall'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Luca San Martino che ha annunciato questa mattina la pubblicazione sul sito dell'assessorato all'agricoltura di un avviso che prevede un aiuto concreto e immediato per le aziende del settore danneggiate dagli effetti della guerra russo-ucraina. Il bando, dice San Martino, è il frutto di un lavoro intenso di riprogrammazione dei fondi derivanti dal piano di sviluppo e coesione che rischiavano di andare persi. Non solo abbiamo salvato quelle somme ma le utilizzeremo per aiutare tante aziende colpite dall'impennata dei costi dovute al conflitto nell'est Europa. Le imprese che potranno presentare domanda per il contributo sono quelle attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e quelle attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In quest'ultimo caso il prodotto della trasformazione può essere anche un prodotto agroalimentare non agricolo. Un intervento concreto per rispondere a una difficoltà concreta di tante realtà produttive siciliane. Realtà che questo assessorato e questo governo regionale continueranno a sostenere e aiutare senza risparmiarsi nell'interesse della nostra bellissima Sicilia, ha concluso l'assessore.